Amici, cosa facciamo con le bucce di arancia? Le buttiamo via? Eppure esse sono grandi alleate per la salute e benessere del nostro organismo, perché hanno enormi proprietà medicinali ed aroma per dolci, saponi, detersivi e cosmetica fai da te. Andiamo a conservare le bucce di arancia. Laviamo le arance. Sbucciamo e posiamo le scorze in grattiglia sulla cucina a legna. Lasciamo essiccare per 15 minuti sul calore del fuoco leggero della legna stessa. Oppure direttamente al forno a 180 gradi. Facciamo essiccare per 10 minuti. Spezzettiamo e maciniamo con un semplice macinino da passaggio. Fino a diventare polvere. Leggermente più grossa, così come vedete in video. Riponiamo in barattolo di vetro e conserviamo a temperatura ambiente. Le nostre bucce di arancia sono pronte per gustare un energetico tè. Preparare dolci e biscotti aromatizzati. Preparare dolci e biscotti aromatizzati. Profumare saponi solidi e liquidi. Detersivi per il bucato in lavatrice. Creme, oli, maschere, profumi e sciampi fai-da-te. Rigorosamente fatto in casa. E profumato al naturale. O profumare detersivi fai-da-te per l'igiene della casa e dei tessuti. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale ed attiva la campanellina per rimanere sempre aggiornato. Ciao!